tema è strano a sanremo meri sta per salire sull'aristore si è molto contenti una versione un po particolare ascolterete di me siete abituati da vent'anni a ascoltare la versione originale saremo ospiti di mister rain prove fatte un arrangiamento particolare abbiamo fatto più prove anche perché sul palco con noi oltre a esserci noi due e chiaramente l'artista in gara mister rain avremo anche delle ragazze bellissime bravissime che sono le farfalle e quindi vedrete un una coreografia anche molto particolare molto emozionante quant'è importante la storia di meri ancora da raccontare nel 2024 è fondamentale importantissima noi la raccontiamo dal 2003 2002 2003 ma vediamo che c'è sempre bisogno di raccontarla perché questo purtroppo questa piaga non finisce mai si assopisce un po poi torna fuori poi si riassopisce quindi il nostro dovere è portare in giro sempre questa canzone perché dia un po di speranza alle persone per riuscire a denunciare e a fare capire magari a qualche aguzzino che non è cosa bisogna cominciare dal basso dalla cultura da bambini dalle famiglie dalle scuole perché altrimenti non riusciamo più ragazzi però meri c'è sempre ricordatevi seguiamo con i progetti solisti vi seguiamo insieme siete di casa in puglia ma quando tornerete speriamo presto torniamo in puglia torniamo il 17 apricena adesso che mi viene in mente bravo è vero bravo provincia di foggia saremo veramente in giro per cento date come abbiamo fatto l'anno scorso quindi ci vedremo sicuramente in puglia che ci vuole sempre bene fantastica la puglia ragazzi vogliamo un sacco di bene e noi vi adoriamo thank you very much grazie grazie